Per il presente della costruzione che ti ho fatto costruire qualche giorno fa? Certo, certo che me la ricordo Ok, l'ho fatta costruire per fare un test personale su di me Ah Sì, 14 domande super personali su di Steph che devi cercare di indovinare E più ne azzecchi più punti fai, perché poi ci sarà la rivincita dove tu farei 14 domande Ah, ok Su te stessa che io dovrei indovinare, chi ne indovinare di più tra andata e ritorno vince Ti piace? Ok, sì, sì E ti garantisco Fede che quest'oggi scoprirai un po' di cose su di me che neanche tu sai addirittura Ma stai titolo Te lo garantisco Zitto Ne sbaglierei tantissime, però oggi non ce lo puoi fare Allora, secondo me hai messo cose false Perché solo mettendo cose false puoi permettere che io sbagli Sono andato su domande di quando ero piccolo Sono andato su domande di cose che preferisco che non ti ho mai detto Ma io non ti conoscevo quando eri piccolo Eh, lo so, eh, lo so, eh, lo so Infatti non sarà una sfida facile Allora Ho suonato il campanello, sì La puoi smettere? Possiamo andare? Faccio quello che voglio, andiamo Let's go Allora, allora, allora Devi prendere la cesta e leggere la domanda a voce alta E dopodiché leggere le tre opzioni Vado? Ok, vai, leggi Quanti fratelli e quante sorelle ho? Ok Allora, io ci tengo a dire una cosa ai consolini Perché questa sembra una domanda semplice e banale Ma dovete sapere che Steph ha una situazione familiare indescrivibile Cioè una delle più incasinate che viate mai visto Quindi lui ha dei fratelli e delle sorelle sparsi per il mondo Di cui probabilmente neanche lui sa l'esistenza Quindi è molto complicato rispondere a quella domanda Però c'è da dire che se ci limitiamo ai fratelli e sorelle conosciuti sia da me che da te Ok Non conosciuti di persona ma nel senso di cui mi hai parlato Ok Io direi Attenta Aspetta Tre sorelle e un fratello Yes Tre sorelle e un fratello Poi se ne esistono altri sono affari tuoi Non lo so neanche io nel caso Quindi ce l'hai fatta Prima domanda Guarda il burbacchione Guarda le trappole mi mette C'è del rischio nel sbagliare la domanda Allora domanda numero due Vai a prenderla Puoi già capire un po' dalle risposte di che cosa si tratta Però leggi a voce alta la seconda domanda Quelli burbacchi te li regalo Tieni Grazie Molto gentile Anzi ridammelo Ridammelo Fere non farlo Aspetta Fere non farlo Sfruttiamo un attimino le tue Meno male che non ho sbagliato domanda Ok vado Sì La mia città preferita Vedi questa è una di quelle cose che non è così tanto dichiarata Quindi ti può lasciare dei dubbi No in effetti Allora non è che me ne hai mai parlato Ok Perché non è che ci siamo mai detti la nostra città preferita Esatto Quindi sincero Però allora Sentimento contando le cose che mi hai detto di tutte e tre le città Direi Barcellona Yes Anche perché a Ginevra non ci sono mai stato Ma mi ispira troppissimo come città Invece a Nitta ci sono stato e mi piace parecchio Ok Allora Domanda numero tre Equifere Sei fregata Infatti qua ci sono dei numeri Quindi sicuramente non è più tanto semplice Quanti Vai leggi Quanti game ho vinto a Fortnite Ma devo contarli tutti Ti ho fregata Allora gli unici due game vinti che non devi contare Quindi tutte le maietà tranne i due game vinti nelle partite con i consolini Vabbè ma quello è ovvio Ok Però non è la più pallida Cioè sinceramente non so neanche Ho rischiato di morire sulla lava me ne sono accorto adesso Non so neanche quanti ne ho vinto io Lo so Perché sinceramente non mi ricordo Infatti prima di mettere le risposte sono andata a controllarmi Io direi otto E invece era sette No Vai a morire No Su È la tua fine No Allora Prima domanda sbagliata per fare Stava andando molto bene Guarda che torno Ma sapevo che questa l'avrebbe messa in difficoltà Non era semplice Io stesso non lo sapevo Sono dovuto andare a controllare il mio profilo Io davvero non so neanche i miei game vinti figurati tuoi Eh lo so Come dovrei poterli sapere Allora Vabbè prima sbagliata E secondo me Sbaglia anche questa Vediamo un pochettino Guarda ti farò tipo Quanti capelli ho nella testa io come domanda E le risposte saranno un miliardo Un miliardo E li conterò uno a uno per farti sbagliare Tu eri presuntuosa prima di iniziare Ma adesso mi sembri un po' preoccupata Che sport praticavo da bambino Allora anche questo Ci tengo a dire che è molto attranello Perché Steph è di quei bambini Che ha provato tutti gli sport esistenti Ok però Bambino è importante Perché non è da ragazzino Non è da adolescente Ma è proprio da bambino Non so Quindi è proprio specifico E preciso Allora se non ricordo male Gli hai comunque provati tutti questi vero? Sì non c'è nulla che non ho mai provato Tra tutti questi che ci sono Ma ci sono età diverse Sono indecisa Allora posso iniziare a fare le opzioni Come nei programmi televisivi E poi chiami l'aiuto Alla fine Chiama chi vuoi Chiama mia madre magari Mi faccio il telefono a casa E chiami mia madre Che sport ho praticato Non è che lei si ricatta Allora Dicevi Chiedo l'aiuto di sua madre Allora Secondo me Io sono molto indecisa Tra tennis e calcio E calcio e karate Ok Perché secondo me Basket è una cosa che provi Forse un po' più Da grandetto Ok Calcio e karate Vado di pancia Sì Dannazione Dannazione Comunque basket l'ho provato Ancora da più piccolo Ma ci ho fatto tipo due giorni E poi ho mollato Perché non mi piaceva No perché di solito Cioè il basket ho sempre visto Bambini un po' più Tipo intorno ai 12 anni Che magari fanno basket Allora anche questa Sarà un po' complessa Cara mia Sarà un po' complessa Perché è una di quelle cose Che non ti ho mai detto E non so se ci puoi arrivare Diciamo che non è difficilissima Però si può sbagliare Leggi pure Il mio item preferito Di Minecraft Allora La TNT Secondo me è la TNT Ma la TNT No perché mi copieresti Ok Perché mi sto ricordando Il video della What's in the box Su Minecraft Ok Quando avevi detto Che la TNT Ti piaceva un botto Però non ti ricordavi Come si crattava Ti ricordi Ok sì sì Mi ricordo Mi ricordo Non è la TNT E invece no Scusa ma le porte Sono trasparenti Perché sono in stile Fere non puoi fare Una cosa del genere Non mi metto a guardare Quindi qual era Io smetto di giocare Non è vero Che è la bond mia La chef Non è vero Sì Non è vero Mi piace un sacco Quando le piantine Crescono subito Mi dà un feeling Allora a nessuno Su questo mondo Può piacere la bond mia A me Ti può piacere il quarzo Ti può piacere la clay Ti può piacere il Dimmi che non è bellissimo Quando sei davanti In una piantina Usi la bond mia Le cresce No È bellissimo No non ha senso Non ha senso Non ha senso come cosa Non ha senso Di esistere Accidenti a te Ma chi è che piace Adesso la bond mia A me A me Comunque Tre giuste E due sbagliate Per ora Corretto? Sì Siamo a cinque domande Due sbagliate Due sbagliate Allora Alla prossima Quindi MotoGP Tennis o calcio Sport preferito Contando che è quello Che seguiamo di più Anche assieme Direi la MotoGP Ok Per forza Per forza Perché il tennis Ultimamente lo stiamo seguendo poco Il calcio non lo segui così tanto Quindi vale per la MotoGP Esatto Ok Anche questo secondo me è facile Leggi Allora Personaggio storico preferito Napoleone Leonardo da Vinci Giulio Cesare Leonardo da Vinci Bene Hai sempre parlato bene Non può essere Giulio Cesare E Napoleone Infatti Stanno andando alla grande Si stai recuperando Sono unstoppable Iniziano quelle difficili Questa è ancora affattibile Vado Però poi inizia una cosa un po' difficile Lingua preferita Ma non è una lingua preferita Spagnolo Giapponese Inglese La lingua che più vorrei imparare a parlare Per gusto di proprio Di lingua Allora c'è da dire che Forse la lingua che vorresti imparare di più A parlare è l'inglese Perché si ok lo parli No vabbè Non lo parli fluentemente Senza essere razionali Su ciò che è utile Parliamo proprio di Che lingua vorresti Per parlare Dai non è il giapponese Spagnolo Non è vero È il giapponese È la lingua simpatica Non è vero Ma che me frega di parlare Ma non te ne frega niente Dello spagnolo Ma perché devi dire festerie Non è vero Sono simpatici Allegri e carini E fare i video in spagnolo Mi piacerebbe di più Che fare i video in giapponese O in inglese Provate a tirarti degli elettrici Quindi Steph farà il canale spagnolo E Consolini mi seguiranno Vai a bruciare Va Brava Ti chiudo anche la porta Ok L'ho riaperto L'ho notato Per fare la persona creepy Che mentre muore Apre le porte Prossima domanda Prossima domanda Vai Io l'uccido Sei a tre errori Tre errori su 14 domande Domanda per ora Ed Sheeran Eminem McLemore McLemore Questa era facile Perché ti piacciono tutti e tre Ma questo lo segui di più Anche su Instagram Ne parli un botto Quindi era per forza lui Buttiamo il libro E qua Secondo me Questa non la sai Leggi alla bacia alta Una paura che avevo da piccolo Che ho superato Ha paura dei cani Paura di nuotare Paura dei posti troppo alti Ok Allora Di queste cose tu non me ne hai mai parlato O se me ne hai parlato Probabilmente non me lo ricordo Ok Quindi devo andare un pochettino Devi dare istinto su cosa trovi plausibile su di me Devo guardare in alto Perché ormai ho notato che le porte sono trasparenti Quindi devo guardare il cielo Non è che sto impazzendo È solo per quello che guardo il cielo Allora Paura dei posti troppo alti Ce l'hai anche da adulto Perché è fuori degli aerei Non riesci neanche a salire in un palazzo di quattro piani Che ti fai addosso Quindi comunque direi che questa paura Non l'hai per niente superata E infatti era messa di proposito Allora paura di nuotare e paura dei cani Non lo so Perché ovviamente sono entrambe cose che non hai adesso Forse di nuotare I bambini tendono ad avere paura di nuotare Anche paura dei cani Dannazione Dai Questo era difficile I cani in linea di massima piacciono sempre Epoca preferita Rinascimento Pre storia medioevo Medioevo dai Questo è semplice La sua al 100% A me piace tanto anche il rinascimento A me anche la pre storia Mi piacciono tutti e tre Infatti mi sto mettendo solo cose che comunque mi piacciono A me di meno Perché confonde tanto Medioevo Rinascimento Rinascimento è lo stesso Tanto 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 bello Ok Ok prossima Siamo alla dodicesima domanda Quindi abbiamo anche quasi finito Stavo bruciando Sì non ne mancano troppe Allora Band preferita Fere Coldplay 21 Pirates O Imagine Dragons E ti piacciono anche qui Tutti e tre Esatto Il che lo rende difficile Allora Tra questi tre Secondo me Gli Imagine Dragons Dai non è vero Chi ti piace Dai ma Ma non è vero Non puoi sbagliarle Due su tre Sì ma scusami Tu più dei 20 Hai ascoltato molto di più Gli Imagine E anche i Coldplay Non è vero Allora Allora sono diventati ieri La tua band preferita Scusami eh Se puoi cambi idea Da un giorno all'altro Io non lo so Ma tu hai sempre ascoltato I Coldplay Li ho ascoltati meno Di entrambe Quindi doveva essere almeno Ma conosci un botto di canzoni Io non so Eh ma doveva essere almeno 50 e 50 20 e Imagine Dopodiché Anche se ho ascoltato Un pochino di più Gli Imagine Preferisco i 20 Mi dispiace Vada Ma scusa la tua preferita È quella che ascolti Tutti i giorni Ininterrottamente E devi ascoltare Tutti gli album Finché non ascolti Impari le canzoni Memoria Quante canzoni Dei 20 Sei in memoria Vai a bruciare Zero Perché in realtà Non ti piacciono Stef Zero Vai a bruciare E muoviti Capisci Zero Stef Questa però no Meno male che è bruciata Non era una domanda giusta Io te lo dico Guarda Raccontando che come seconda Sei andata su I cosi Sui Coldplay Direi che te lo meriti Perché non è vero Li ascolto solo io Tu li ascolti Sentendo il volume Dalle mie cusse Quindi non è vero Che li ascolti Prossima domanda La sua band preferita Capite Vabbè Una cosa facile Che non so fare Ti tengo anche a dire una cosa Avevo previsto totalmente Non solo che avrebbe sbagliato Ma anche che si sarebbe arrabbiata Perché le piacciono un sacco E sapevo che Però la mia band È il momento Perché io ne ho tante Di band preferite E cambiano Infatti anche questo era Sono anche delle cantante Era attualità Mi sono dimenticata la domanda Una cosa facile Che non so fare Cantare Andare in bici Nuotare Ah sicuramente cantare Però cantare non è facile Ok Cantare non è facile E allora Andare in bici Perché sei un idiota Che in bici Non ci sa andare Alla tua età Stef Stef Io ho imparato A sette anni Ad andare in bici Brava Addirittura Da sola E cosa hai tenuto Nella vita Perché La felicità Di aver imparato A fare in bici Ma se non ci vuoi Io adesso Se voglio Mi compro una bici E vado in giro Però non lo fai Perché qui non so Non è organizzata bene la città E sto per quello Io da piccolo avevo già previsto Ho detto non imparo Però io ho imparato da sola Mi sono messa Ho preso una bici Non mi ricordo da dove L'ho tirata fuori Però ho imparato da sola Perché nessuno Me lo voleva insegnare Chi non sa farlo Tranquilli Tanto non serve a nulla Allora Ultima domanda Io so guidare anche lo scooter Se un domani ti vecomprò un motorino Steph Tu non lo stai guidare Vedi a cosa serve Rispondi È l'ultima domanda Fede E ti garantisco Che non è semplice Quindi ti stai giocando Un ultimo errore Il MOBA Che è un genere stile League of Legends MMO Che è 7 MMORPG Quindi World of Warcraft Ed RTS Sai almeno perché cosa sta? No Real Time Strategy Ah ok Quindi Age of Empires Esatto Esatto Qual è il mio genere preferito? Gli giochi tutti Gli hai giocati tanti tutti Esatto Però secondo me è questo Perché rimpiangi sempre Ma perché non fanno più giochi Come Age of Empires Dovrebbe uscire Dovrebbe uscire un gioco Come Age of Empires L'hai detto Anche nell'intervista Nella rivista Che abbiamo fatto Io lo porto nel canale Age of Empires 4 Cono senza di te Io lo porto Non me ne frega nulla Io lo porto Ditegli tutti Che non lo volete vedere Mi prego No io lo porto E Age of Empires 4 Appena esce Tutti i giorni Tutto il giorno Live No devo farlo assolutamente Quindi abbiamo Finito Esatto Sicuramente ne sbagliate un botto Quindi vincerò io la sfida Muah No No Quanto ne ho sbagliato? Credo che tu ne abbia sbagliato 4 E 10 a 4 4 Hai fatto 10 domande esatte 4 domande sbagliate Quindi Sei andata così così Cioè ne hai sbagliato un terzo Praticamente No sono andata bene Quasi un quarto Preparati che ti dico Quanti capelli ho in testa No Inizia a contarli Mentre dormo Guarda Quasi dovresti fare Le stesse identiche domande Ma dato che son gentile Le potrai comunque cambiare L'importante Qualcuna la tengo simile Qualcuna la tengo simile Comunque sarà di sicuro divertente Ragazzi Ragazzi Lasciateci un like E se non per la volta Che vi è piaciuto il nostro video Potete considerare Il video di iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima